Ora il maestro Lino Impagliatelli, organista del nostro santuario e compositore di musica liturgica, a nome di tutti i coristi omaggerà la Madre di Dio con i fiori e la preghiera. Caro Fra Domenico, con te, che sin dai primi passi della tua formazione iniziale, nel cammino dell'Ordine Francescano Capuccino, hai saputo dedicare tempo e passione alla cura del servizio musicale. Signore, vogliamo esprimere al Signore il nostro ringraziamento per averci chiamato a elevare a Lui la nostra lode, non solo con il significato delle parole, ma anche con l'arte e l'armonia della musica. Con te vogliamo incrociare lo sguardo con quello della Madre di Dio e del suo bambino, per lasciarci commuovere dalla tenerezza del loro amore e riempire i nostri animi di quel sublime sentimento che è fonte e ispirazione di ogni espressione della creatività umana e rende sublime ogni pensiero. Per questo, ora, a nome di ognuno dei cantori del Santuario e della città di San Giovanni Rotondo, mi rivolgo alla Beata Vergine delle Grazie, insieme alla locale Fraternità dei Capuccini, e a tutti voi che partecipate alla recita del Santo Rosario. Preghiamo tutti insieme la supplica a Maria, Santissima delle Grazie. Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici, perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria. Cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corri verso noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso, il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace, che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto è il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In Lui troviamo casa, con Lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati, Madre, per i nostri giovani, perché risaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria. Il nostro cuore ti attende. Diciamo insieme, Ave o Maria, piena di grazia. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Adesso è l'ora della nostra morte. Grazie. 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 Grazie.